Un pezzo di storia che vuol dire un pezzo di vita e quindi vita del passato che deve essere ricondotta al presente. I cittadini che abitano questi luoghi dovranno sempre più averne cura, amarli, fare in modo che non siano le mura a proteggere il sito archeologico, ma che siano le amministrazioni e soprattutto gli abitanti. Abbiamo fatto una rete tra la soprintendenza, il comune, la municipalità, la parrocchia, le scuole del territorio. Questa comunità avrà cura del sito ed è un impegno che prendiamo non soltanto come singole persone, ma proprio come appartenenti a una comunità. Credo che il fatto che questo rione, l'8O, abbia già avuto come destinazione il nome di rione della villa romana, ma continua ad essere chiamato l'8O o l'80, è un dato. Bisogna invece chiamarlo rione della villa romana. Qui c'è un sito archeologico che va visitato non soltanto da questo territorio, ma da tutta la città. È una villa rustica antica del primo secolo a.C., un sito che ricorda una memoria e i nostri giovani, i nostri ragazzi delle scuole devono conoscere attraverso il passato il loro presente e immaginare un futuro, perché ricondursi a quest'epoca romana in cui qui c'erano un vigneto, un orto, le colline che digradavano dal Vesuvio e guardavano al mare e invece oggi c'è una nuova urbanizzazione che è ovviamente diversa ed ha portato dei danni forti alle comunità, dobbiamo fare in modo che ci sia un'identità che rimanda a quella storia.